Avviso davvero importante. Purtroppo con la morte di Navalny, e il ricorso di Nadezhdin che è stato respinto, le nostre speranze per una Russia migliore sono finite. A tutti quanti che sono contrari alla guerra in Ucraina, e anche all'attuale regime corrotto della Russia, diciamo tutti quanti insieme. Morte all'attuale regime russo corrotto e puto e corrotto assassini. Libertà per l'Ucraina e per i popoli della Federazione Russa. Grazie.